In questo video vediamo una delle nostre femmine di Feuter. Il Feuter è una combinazione tra il gene Pastel e il Cinnamon, oppure Pastel e Black Pastel. Può essere più o meno chiaro, è già stata fatta la versione Super Pastel, Cinnamon, Super Pastel, Black Pastel, che sarebbe lo Sterling Pastel o il Silver Streak. È stata fatta la versione Super Cinnamon o Super Black Pastel, Pastel, che è il Silver Bullet, eppure il Super Pewter. Tutto super. Una bella combinazione, molto slavata ai lati. C'è parecchio blushing. È molto variabile. Grazie. Grazie.